La pasta di zucchero è indispensabile per decorare torte e dolci. Ecco come prepararla in 5 passi. Prendi un foglio di gelatina o colla di pesce e lasciala in ammollo in acqua fredda per almeno 10 minuti. Prendi un pentolino e scalda 50 g di miele con 30 g di acqua e aggiungi la gelatina strizzata. Fai amalgamare senza bollire. Metti in una terrina 400 g di zucchero a velo e unisci il composto del pentolino. Mescola fino a ottenere un impasto abbastanza solido e non appiccicoso. Lavora con le mani la pasta di zucchero per renderla omogenea e crea un panetto. Avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo in frigo per almeno un giorno. Consiglio! Puoi colorare la pasta di zucchero con coloranti alimentari aggiungendoli poco prima della fine del processo e lavorando la pasta fino a che il colore non risulti uniforme. Buon appetito e alla prossima videoricetta!